Come parla il lavoro? Con quali parole si racconta? Forse per comprendere le trasformazioni in atto nel mondo del lavoro abbiamo bisogno di un nuovo linguaggio. Ha iniziato a lavorare come copywriter nel 1974, nel 1983 ha fondato la sua agenzia di pubblicità, oggi ha l'attività di consulenza per le imprese a fianco a un'intensa attività di scrittura come blogger e come saggista. È un blog che vi consigliamo assolutamente, è sempre ricco di stimoli e di suggestioni ed è anche docente universitaria. E' con noi oggi intervistata da Giorgio Zanchini, Anna Maria Testa. Buonasera, immagino Anna Maria che le cinque domande alle quali faceva riferimento Sebastiano siano sul tuo blog, io però l'ho letta e lo dico su Internazionale perché l'hanno pubblicata anche su Internazionale. Sono sia su Internazionale sia sul mio blog che si chiama Nuovo e Utile, sono le cinque domande prodotte da un gruppo di consulenti del Salone del Libro, ovviamente sono un padre del gruppo quindi ho partecipato a questo processo, sono domande a cui stanno arrivando risposte dagli scrittori, dagli scienziati, dagli artisti di tutto il mondo e dalle persone che hanno voglia di rispondere. Poi a Torino durante il Salone vedremo quali sono le risposte, ci sarà anche un sito per ospitare tutte le risposte comprese le vostre. Faremo adesso una chiacchierata di più o meno 20 minuti, alle parole introduttive della figura di Anna Maria Testa aggiungerei un'iniziativa che credo le sia cara, dillo in italiano. Lo aggiungo perché quando ci siamo fatti una chiacchierata prima di questo incontro, alla domanda come parla il lavoro, una delle prime risposte che ha dato Anna Maria è parlare in inglese. E devo dire che una volta che tu me l'hai detto, io stamattina ho cercato di far caso al lessico dei vari panel e stamattina era veramente impressionante. Perché parlare in inglese è un'opportunità ma è più un rischio di un'opportunità? Allora in realtà parlasse in inglese, in realtà parla in itanglese, che è uno strano miscuglio di parole prese dall'inglese, spesso un po' oscure, infilate dentro un tessuto linguistico grammaticale italiano. Il risultato è immangiabile, è come mettere il ketchup sugli spaghetti e sperare che venga fuori una cosa commestibile. Devo fare due piccole premesse. La prima è questa. Le parole che usiamo danno forma al nostro pensiero. Qui noi oggi e ieri ci siamo scambiati mille pensieri usando tante 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 parole. Più le parole sono opache, sfocate, usate in maniera sommaria, più il pensiero diventa opaco, sfocato e sommario. Quindi manutenere le parole significa manutenere il nostro pensiero. Il secondo punto è questo. Viviamo in tempi sempre più veloci. E' un motivo in più per usare con sempre maggiore attenzione parole sempre più chiare. Perché abbiamo poco tempo per dire fermo, 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 fammi capire. Fermo, 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 che cosa volevi dire? Comprendere in maniera immediata e quindi parlare semplice, parlare chiaro, e parlare chiaro è molto più difficile che parlare in maniera oscura, diventa sempre più fondamentale in tempi veloci come i nostri. Torno alla domanda. Magari il lavoro parlasse inglese. In Italia le competenze dell'inglese sono carenti. Circa un terzo della popolazione parla inglese decentemente o bene. Due terzi lo parlano e lo capiscono poco o niente. Che cosa succede? Sarebbe importante conoscere due lingue, italiano e inglese. Sarebbe importante conoscere tre, quattro, cinque lingue. Per diversi motivi. Conoscere due lingue, e cominciamo a pensare all'italiano e all'inglese, ci aiuta a leggere articoli che non sono tradotti in italiano, ci aiuta a viaggiare, ci aiuta in primo luogo a lavorare, se lavoriamo in realtà che hanno contatto con l'estero, ma ci aiuta soprattutto ad avere una forma di pensiero differente. Chi di voi sa due lingue bene e abbastanza da parlarle entrambe fluentemente, da pensare in entrambe le lingue e da sognare in entrambe le lingue, sa che se pensa in una lingua o nell'altra, i pensieri e le intuizioni sono diverse. Il processo di pensiero è diverso. Quindi sapere due lingue ci raddoppia le potenzialità di pensiero, ci raddoppia anche le potenzialità creative. Vi aggiungo che è anche un fattore protettivo diventati vecchi 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 nei confronti dell'integrità cerebrale e della capacità del cervello di continuare a attuare i suoi processi anche in tardissima età. Detto questo, in Italia il lavoro non parla inglese, parla una orrenda insalata in cui i termini inglesi, la cui comprensione non è diffusa e non è per nulla scontata, vengono infilati dentro discorsi come se fossero dei bip o dei segnali luminosi che si accendono. L'altro giorno, non l'altro giorno, ieri sera mi è arrivato un messaggio da un mio contatto di LinkedIn che dice sono stufa di usare una parola come, oh mamma mia, me la sono dimenticata, ve lo dico fra un attimo, non appena mi torna in mente, come advocacy, ecco, nelle mie presentazioni aziendali. Come la traduco in italiano? Io le rispondo ma può significare sostegno, può significare patrocini, può significare promozione, dipende dai contesti. Allora siamo in una situazione in cui l'emittente del messaggio non ha chiaro che cosa vuol dire e trasmette un messaggio che parla di advocacy a un pubblico che ancora meno avrà chiaro che cosa vuol dire. Questo paradosso si replica ogni giorno mille e mille e mille volte per vezzo, per pigrizia, per provincialismo, per pavoneggiarsi. Ditemi perché devo sentirmi dire ti faccio una call invece che ti telefono. Non è neanche più breve. Perché fa più fico fare una call? Perché siamo così provinciali? In questo modo abbandoniamo anche non solo il nostro orgoglio, ma abbandoniamo una ricchezza importante per il nostro paese. Chiudo poi questa risposta. Ma volevo ricordarvi che l'italiano è la ventunesima lingua più parlata al mondo. Quindi per un pelo soltanto sta nel gruppo delle 22 lingue parlate da metà dell'umanità. Ma è la quarta lingua più studiata al mondo. È amatissima all'estero. La seconda lingua più usata nelle insegne commerciali del mondo è l'italiano. perché produttori di abiti americani o di scarpe cinesi o di pizze sudafricane mettono l'italiano nelle loro insegne. E noi scriviamo bakery ma noi scriviamo italian bakery è vero, andate a Porta Nuova c'è un italian bakery scritto in inglese. È un paradosso stiamo disperdendo un patrimonio anche di apprezzamento e di amore che il mondo è più che disposto a regalarci e che noi non apprezziamo. Maria Testa ha lavorato moltissimo lo sapete, credo, sul tema della creatività. E qui ti chiederei di approfondire un pezzo della tua prima risposta. Come se ci fosse una correlazione un legame, un rapporto fra il possesso e la conoscenza che noi abbiamo forse non tanto di una lingua ma di alcuni termini e la creatività stessa. Ma è così. È così nel senso che ciascuna parola è connessa a mille altre parole nella nostra mente da fili sottili di analogie di similitudini di contrasto di derivazione. Quando noi ragioniamo e pensiamo e sogniamo nella nostra lingua madre abbiamo a disposizione un materiale ricco di senso di contenuti e di implicazioni. Le stesse strutture grammaticali dell'italiano guidano il nostro pensiero che è una lingua che ha strutture molto rigogliose che non è solo paratattica che apre degli incisi infatti spesso i traduttori in inglese trovano difficoltà a tradurre in simultanea per esempio un discorso italiano. Ecco, noi abbiamo a disposizione una struttura di pensiero rigogliosa come una foresta tropicale. Qualche volta va benissimo qualche volta avremmo bisogno di avere dei pensieri più lineari ma se dobbiamo praticare il pensiero creativo questa lingua ci offre un substrato di struttura che è magnifico per il pensiero creativo e non a caso noi possiamo vantare per il passato ma anche per il presente una buona propensione alla creatività. Però dobbiamo considerare che la lingua è una la lingua come una cassetta di attrezzi da tenere bene in ordine. Le parole se non le usiamo perdono di senso perdono di attualità si logorano diventano vecchie. Tutte le volte che noi diciamo call uccidiamo tutte le possibili implicazioni che nella nostra mente suscita la parola telefonata ma tutte le volte che usiamo il brutto calco sull'inglese dare supporto invece che sostenere dare sostegno che è una parola più importante togliamo un po' delle implicazioni che abbiamo l'idea di sostegno perché uno può sostenere una causa un'idea un partito una parte non può supportare una parte ecco quindi se noi facciamo la fatica di tenerci stretto l'italiano e magari di accostarlo con un eccellente inglese invece che mescolare tutto quanto facendo poi le partacce di cui parlava stamattina Osvaldo che parlava del signore che strapparlava in inglese in riunione ma poi non sapeva sbiccicare due parole davanti a uno che l'inglese lo sapeva bene ecco se facciamo questo manutenendo e curando la nostra lingua miglioreremo anche le nostre strutture di pensiero tra l'altro l'inglese dici tu può servire anche a mascherare quelle che tu definisci strane professioni o fragili professioni allora io ho un sacco di persone con cui sono in relazione su linkedin di tre quarti di loro non capisco l'ambito professionale ci sono delle robe assolutamente esotiche ma che se entro se cerco di capire che cosa significa non ce la posso non ce la posso fare lo stesso riguarda io vengo dal mondo della comunicazione della pubblicità tante volte l'usare l'inglese per mascherare un'assoluta pochezza di pensiero lo dico in inglese e sembra che dietro ci sia qualcosa che dietro ci sia qualcosa di importante spesso non è vero spesso se facciamo la fatica di tradurre l'itanglese in puro italiano scopriremo che si banalizza ma non perché l'itanglese sia più ricco di senso è perché è così povero di senso che una volta che andiamo a vedere qual è il senso scopriamo che non ne ha anche i curricula rischiano di essere pieni di trappole quasi di truffe mettiamola così o di un lessico fintamente aggressivo o maschilista vorrei fare un appello ai ragazzi che preparano i loro primi curricula non scrivete per cortesia che avete attitudine alla leadership se avete meno di 50 anni perché uno non ha voglia di mettersi uno con attitudine di 22 anni con attitudine alla leadership che poi pretende subito di diventare amministratore delegato senza farsi tutti gli scalini e non mettete che siete dei maestri di team building a perché è itanglese e b perché di nuovo siete giovani queste robe si imparano nel tempo e sono delle competenze non sto dicendo skill che uno sviluppa negli anni parlate di voi ma lo si diceva prima in maniera semplice e autentica che è un esercizio difficilissimo se uno scappa via dagli stereotipi e dalle formule preconfezionate tu hai l'impressione ci sia una specie di inflazione di parole sul lavoro e troppe poche parole sul lavorare qui torniamo a un'altra trappola linguistica in tutte le il dibattito politico gli infiniti dibattiti politici che ci siamo sentiti nelle scorse settimane si parla del lavoro come categoria astratta e quasi mistica parliamo di opportunità di lavorare nel momento in cui decliniamo il termine astratto nelle sue accezioni concrete dobbiamo anche definire i soggetti che lavorano chi vuole lavorare dove vuole lavorare in che modo vuole lavorare magari andiamo a specificare finché diciamo ci vuole più lavoro è come se dicessimo ci vuole più amore ci vuole più felicità è bellissimo pensarlo ma la nostra affermazione non contiene nessun gancio pratico nessuna indicazione nessuna direzione su dove andare questo uso un po' magico un po' magico del termine lavoro ha anche una radice sindacalese molto forte qui racconto un piccolissimo aneddoto se c'è tempo per farlo tanti tanti anni fa sto parlando del secolo scorso vengo invitata alla camera del lavoro da alcuni dirigenti sindacali che già allora avevano un problema di reclutamento di nuovi iscritti perché chiamano me non perché sia una esperta sindacale perché mi occupo di linguaggio e mi dicono abbiamo un linguaggio così astruso che i nostri potenziali iscritti non capiscono dico è vero si apre un dibattito con una sala di persone che facevano parte del sindacato quando propongo di fare un lavoro di semplificazione del linguaggio non i dirigenti che mi hanno chiamato ma l'intera sala di quadri intermedi insorge dicendo ci abbiamo messo cinque anni per imparare il sindacalese adesso ci dite che dobbiamo buttare via questo enorme investimento di gergo per tornare a parlare semplice e quindi parlando semplice anche per perdere potere e seduttività perché parliamo esattamente come tutti gli altri ecco la sfida invece è farsi capire è un fatto di onestà non sto parlando della sfida per i sindacati sto uscendo dal tema sindacati per parlare molto più in generale farsi capire è un fatto di rispetto di onestà intellettuale nei confronti di ciò che si pensa di onestà di relazione nei confronti di ciò che chiediamo agli altri di ciò che gli altri pensano e di ciò che gli altri ci possono rispondere è un modo per mettersi in pari con il linguaggio nel senso che io non mi metto automaticamente in una posizione dominante dicendoti delle cose che tu non capisci non capendo le quali sarai disarmato davanti alle mie affermazioni il latiro se oggi torniamo all'itanglese se oggi l'itanglese è il latinorum di manzoniana memoria non dobbiamo combattere la lingua inglese che ripeto è utilissima dobbiamo combattere il maluso dei termini l'abuso dei termini perché rovina i nostri discorsi e perché ci impedisce di impossessarci fino in fondo di un concetto ripeto leggiamo un articolo interessante sull'economist diciamo questa è un'idea che mi piace ci sono dentro tre termini inglesi proviamo a capire qual è il loro corrispondente italiano solo quando l'avremo capito fino in fondo ci saremo impossessati di quell'idea altrimenti come se ci tenessimo delle scatole chiuse in testa senza avere le mai aperte quindi senza sapere che cosa esattamente contengono due ultime domande tu poco fa ci dicevi due terzi dei tuoi rapporti su LinkedIn che fanno lavori che non capisci per come sono descritti che forse non esistono no però il punto è proprio questo cioè la malignità è questa i lavori contemporanei tu mi dicevi hanno un modo di essere descritti o di autodefinirsi di poco fascino ma che intendevi con questo? no non di poco fascino sono sono c'è poca cosa scappano via scappano via ma scappano via voglio dire le parole questo l'ho scoperto lavorando per le aziende per la comunicazione d'impresa anche le parole hanno una magia cioè se sono precise rendono più concreto ciò che descrivono lo aiutano a capirlo meglio e a impossessarsene tutto ciò che è vago e scappa diventa meno esistente meno concreto questo grande sforzo linguistico che dovremmo fare per impossessarci delle parole che descrivono ciò che facciamo ciò che vorremmo fare ciò che vorremmo essere è anche un modo per aiutarci a diventare ciò che vorremmo essere a impossessarci di ciò che vorremmo essere e a valorizzare ciò che siamo un altro tema di cui parlavamo prima se ho tempo un attimo mi piacerebbe riprenderlo l'italiano è nel cuore del nostro ministero degli esteri come mai? perché visto che è così popolare all'estero l'italiano è riconosciuto come strutturale fattore di potere morbido in inglese soft power nel mondo e il potere morbido è indipendente dalla potenza economica o militare di un paese è potere di seduzione di attrazione di seduzione culturale il mondo ci riconosce questo potere e questo potere passa anche attraverso la straordinaria attrattività per gli stranieri della lingua italiana allora perché per provincialismo e per inconsapevolezza dobbiamo non governare e accrescere questo potere ce l'abbiamo lo stiamo sprecando lo sprechiamo e lo disperdiamo quando ci dimentichiamo della bellezza e della potenza della nostra lingua la Crusca ha appena pubblicato una serie di manuali che titolano l'italiano come lingua formidabile è vero ma ce ne accorgiamo quando cominciamo a usarlo bene l'ultima cosa ovviamente se hai voglia in realtà nelle tue riflessioni c'erano già molti consigli però anche alla luce della tua esperienza di lavoro con la lingua sulla lingua sul messaggio sulla comunicazione c'è un consiglio pratico che potresti dare a questa sala parlare semplice è difficilissimo se dovete scrivere un testo semplice pensate di investire il doppio del tempo che investireste per scrivere un testo qualsiasi cercare le parole giuste è un esercizio complicato però è anche un esercizio appassionante e man mano che cerchiamo le parole giuste ci accorgiamo che i nostri pensieri diventano più chiari ricordiamoci sempre che parole e pensiero sono connessi se sparissero le parole tutte insieme sparirebbe anche la nostra capacità di pensare e ci ritroveremo qui dentro smarditi senza sapere dove andare grazie grazie a tutti grazie a tutti